La frangia tradizionale nasconde la fronte allargando visivamente la metà superiore del viso. Il taglio baby bang o frangia molto corta ha l'effetto opposto poiché appositamente studiati per attirare l'attenzione su fronte e sopracciglia. Scopriamoli subito. La frangia molto corta baby bang a chi sta bene e a chi no? I baby bang cortissimi sono l'ultima tendenza della stagione. Presta attenzione. Alcune tipologie di viso non si adattano al taglio. Un volto dalla forma triangolare, per esempio, risulterebbe penalizzato dalla frangetta, che allargherebbe ulteriormente la fronte, restringendo il centro del viso. Inoltre, anche chi ha capelli ricci dovrebbe evitare il baby bang. Mantenere la piega potrebbe risultare più difficile del previsto. La frangia si gonfierebbe ad ogni accenno di umidità, perdendo forma ebrio. 20 fantastiche opzioni di baby bang, da provare subito dal tuo parrucchiere preferito. Cancelletto 1. Capelli lisci con frangia cortissima. Il baby bang risulta perfetto sulle chiome lisce, i ciuffi morbidi ai lati del viso sfinano. I lineamenti, donandoti un aspetto fresco e super glam. Cancelletto 2. Baby bang su tagli bob ondulati. La frangetta cortissima si adatta meravigliosamente ai caschetti moderni. Guarda che incanto questo bob ondulato con i riflessi del rame. Cancelletto 3. Baby bang super corto con capelli di media lunghezza. Si tratta di una validissima acconciatura per i capelli mediamente lunghi. Punte virgole in puro stile rockabili. Sembrerai una pin-up contemporanea, bellissima e sofisticata. Cancelletto 4. Lob con capelli lisci e frangetta. La frangia molto corta e in questo caso bombata e corposa, dalla forma puntita al centro. Il connubio perfetto con il taglio loba che accarezza dolcemente le spalle. Cancelletto 5. Mini baby bang con capelli lunghi e ondulati. Il balayage biondo cenere enfatizza egregiamente questo taglio femminile moderno. La mini frangetta incornicia il viso, che spunte elegante e quasi fosse una corona posta in cima al capo. Cancelletto 6. Bob laterale con frangetta ramata. Vuoi rendere speciale il tuo taglio corto? Possiedi capelli fini e poco voluminosi? Richiedi una mini baby bang, da portare con ciuffi che cadono morbidi ai lati del viso. Cancelletto 7. Tagliolo biondo dorato con frangia laterale. Qual è la migliore strategia per puntare l'attenzione su occhi e labbra? Una frangia laterale accoppiata ad onde morbide e la soluzione ideale, chic, sensuale e raffinatissima. Cancelletto 8. Capelli lunghi e ribelli con mini baby bang laterale. Un taglio asimmetrico che punta verso il basso. Ciuffi ribelli sparsi qua e là. Capelli lunghi e un'irriverente frangetta laterale che valorizza le sopracciglia. Adatto a fashion e dicti dei ribelli e grintosi. Cancelletto 9. Baby bang su onde morbide e femminili. I capelli mossi che cadono a cascata sulle spalle contrastano nettamente e il baby bang cortissimo che bilancia lineamenti. Un'accoppiata irresistibile. Cancelletto 10. Pixie Bob con frangia d'arco posiziona delicatamente i capelli dietro le orecchie e trasforma il tuo taglio classico in una. Graziosa acconciatura dal sapore vintage. Scompiglia dolcemente i ciuffi posti sul retro e luci dalla frangia d'arco. Cancelletto 11. Frangia corta con taglio rasoio vuoi. Un'acconciatura super glamour e al contempo semplice da mantenere. Invece di utilizzare le forbici, sfila dolcemente le punte con il rasoio. Si tratta di una tecnica particolarmente richiesta dalle star di Hollywood. Provare per credere. Cancelletto 12. Pixie super corto con frangetta asimmetrica. Se stai cercando un metodo efficace per snellire il viso tondo, prova il taglio. Pixie con frangia baby bang sulla fronte. Le ciocche più lunghe armonizzano i lineamenti, donandoti un look femminile e cool. Cancelletto 13. Onda sirena con baby bang bombata. I bellissimi toni ramati valorizzano l'acconciatura e le morbide onde che cadono sinuose sulle spalle. Sogni di essere una principessa dei mari? Questo è il taglio giusto per te. Cancelletto 14. Bob invertita d'angolo con frangia cortissima trasformati in una moderna Cleopatra e prova un bob inverso con baby bang cortissimo. Questo stile funziona splendidamente su capelli spessi e lisci, lucidati e acconciati alla perfezione. Cancelletto 15. Bob senza punta con frangetta scomposta e il tocco moderno sull'acconciatura tradizionale, punte tagliate in modo netto e frangetta cortissima che emana un fascino sofisticato, indicato per le donne di ogni età. Cancelletto 16. Ricci morbidi e baby bang laterale questo taglio punta l'attenzione su sopracciglia e zigomi, creando un gradevole look voluminoso. E ribelle, perfetto con i capelli ramati. Cancelletto 17. Bob classico con frangetta nerissima il nero è finalmente tornato. Prova questo look impertinente che mixa il baby bang ai capelli corti, il bordo arrotondato della frangia, delicatamente arruffata. Si adatta meravigliosamente alla curvatura creata dal taglio Bob. Cancelletto 18. Acconciatura da maschiaccio. Prova questo simpatico taglio asimmetrico da maschiaccio irriverente e ribelle, particolarmente consigliato alle chiome fini e sottili. Cancelletto 19. Baby bang con capelli rossi ombre le punte sfumate e la frangetta scompigliata sono le due caratteristiche principali di questo. Look inusuale, perfetto per capelli color ramme, per ragazze dall'incarnato caldo e omogeneo. Cancelletto 20. Capelli mossi di media lunghezza con baby bang la frangetta cortissima e liscia abbinata a contrasto ad una cascata di riccioli. Dona sprint immediato al taglio, incorniciando il viso e puntando l'attenzione su zigomi e sopracciglia. Hai voglia di dare una ventata di freschezza al look tradizionale? Prova un'acconciatura trendy e divertente, non temere. Se la frangia cortissima non ti dovesse piacere, in breve tempo ricrescerà. Il consiglio degli esperti? Tagliala il più possibile, mini è il nuovo trend. Potrebbe interessarti anche, 57 splendidi capelli a caschetto corti con frangia a scegliere la frangetta in base alla forma del viso. Galleri